Le precarie condizioni finanziarie e sociali al comune di Porto Empedocle. In proposito, oggi il coordinatore provinciale del Movimento Noi Conne Salvini, Giuseppe Di Rosa, ha organizzato una conferenza stampa innanzi all'hotel Carlo V, al microfono di Rene Milisenda. Vorrei ricordare che già nel 2014 dicevo che le casse del comune di Porto Empedocle non erano floride, come diceva l'amministrazione, che tutto era un promo per quel sindaco. Vorrei ricordare anche che l'allora segretario generale del comune di Porto Empedocle e il responsabile all'ufficio economico mi volevano smentire, in data 2012-2014, quanto da me ha affermato. Vorrei ricordare ancora che quel comune perde un sindaco che si candida a sindaco nel comune di Agrigento, appoggiato in quel momento dalla maggioranza dei consiglieri comunali, dalla maggioranza assoluta e da tutta la deputazione regionale e nazionale. L'allora deputato regionale Lillo Firetto era appoggiato da tutto il sistema politico agrigentino. Oggi Porto Empedocle si scopre, grazie anche all'allora Giuseppe Di Rosa, candidato sindaco di Agrigento, si scopre che Porto Empedocle non era quell'isola felice che tutti dicevano. Oggi vengono fuori la Chiesa, i sindacati e le associazioni varie. Dove sono stati i deputati e dove sono il dramma che vive oggi, grazie alla Chiesa, ieri è venuto fuori anche la Chiesa, grazie a sei parroci, non un solo parroco. Pensate voi che il cardinale non sappia di questa lettera? Bene, oggi scendiamo in campo perché vogliamo ridare dignità a una città come quella di Porto Empedocle. Il tutto verrà fatto con un nostro candidato, ufficializzo oggi che avremo un nostro candidato che vorrà sicuramente portare avanti un discorso sulla legalità anche a Porto Empedocle e non vi nascondo che il programma vertirà solo in una cosa, andare a controllare se è davvero il commissario che si è già dimesso, il primo che si è già dimesso, il secondo commissario non sta oggi dichiarando il dissesto a Porto Empedocle. Il primo obiettivo che avrà l'eventuale sindaco di noi con Salvini a Porto Empedocle sarà quello di andare a effettuare un controllo minuzioso se è il momento di dare o meno il dissesto finanziario e ripartire, ridare dignità a una città che lo merita. Stiamo individuando una persona che possa seriamente fare il sindaco di Porto Empedocle e ripeto non che io mi voglia sottrarre all'eventuale giudizio della gente però io sono oggi il coordinatore provinciale, sto effettuando lo stesso discorso su Favara stiamo incontrandoci con altri amici di Favara ma oggi a Porto Empedocle pesantemente abbiamo 15 giorni fa avevamo detto che volevamo sentire un attimino l'umore degli altri nostri alleati a livello nazionale e regionale però ci rendiamo conto che Porto Empedocle ha bisogno di una grossa novità, ha bisogno di un uomo che si sieda al comune di Porto Empedocle e la prima cosa che faccia è se conviene o meno dare il dissesto finanziario.